10.000 Ecco qua, ho portato la busta con i miei risparmi 10.000 ho dato Scusi signorina, io avrei un appuntamento col professor 30.000 Col professor Saracce 1, 2 e 3 Il professore non c'è in ferie? No, perché prima avrei dato 10, adesso 30, allora... Appunto, le devo spedire subito a cortina al professore Per vaglia telegrafico Ah, perché gli rimontate per... Anzi, mi dia le 500 lire per la spedizione Ah, giusto, scusi se non ci ho pensato Allora le do 10 così, mi dà il resto Mi dà il resto Guardi che mi sussusto Non dà il resto Va bene, allora scusi, approfitto di questo mancato resto Per chiedere se possiamo andare a paro E lei mi dice chi è il sostituto Ok, dottor Giovanni Rava E dov'è questo... Non c'è, è in sciopero È in sciopero? Ma il suo, è un caso urgente? Ma il mio è un caso di... 100.000 Desperato sarebbe Ma per 100.000 Per tale somma Venne a sapere che in caso di urgenza Il responsabile del reparto ginecologico Era il professor Grandi Primario di Ortopedia Su questo stesso piano dopo radiologia Ah, stesso piano dopo radiologia Grazie, molto gentile Buongiorno signori Buongiorno Buongiorno Grazie.